Affidamenti diretti, subappalti, pareri favorevoli e accelerazione dei pagamenti per le commesse pubbliche in cambio da parte dell'imprenditore di soldi, varie regalie ma anche droga. Una vera e propria rivoluzione in uno degli uffici strategici più importanti del Comune di Pescara, quello dei lavori pubblici. Quattro gli arresti eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza su disposizione della GIP Fabrizio Cingolani a seguito della richiesta della Procura della Repubblica, in manette il dirigente del settore, l'architetto Fabrizio Trisi, l'imprenditore edile Vincenzo De Leonibus e due spacciatori già noti alle forze dell'ordine. Complessivamente 12 gli indagati, tra questi anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, per una cena elettorale in uno stabilimento balneare di 400 euro. Le ipotesi di reato vanno dalla corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Sul piatto opere pubbliche, appalti, manutenzione, strade e perfino fondi della PNRR per un valore di 5 milioni. Si parla nel provvedimento anche dell'affidamento dei lavori per la realizzazione del collegamento dell'asse attrezzato di Pescara e l'adeguamento dello svincolo della statale 714, ma anche di assunzioni all'interno della società Pescara Energia. Nell'ordinanza si parla di numerosi incontri in diversi locali ed anche in un ritrovo denominato Tana delle Tigri, ma anche di cocaina acquistata dall'imprenditore e condivisa con Trisi e due funzionari pubblici in ufficio alla guida di auto personali e comunali, anche in orario di servizio. Tuttora in corso numerose perquisizioni da parte della Guardia di Finanza impegnata con almeno 100 uomini.